ciao a tutti e benvenuti in un nuovo wiki blog dalla stazione sto partendo finito matrimonio finito si ricomincia una settimana senza impegni la settimana mi sa che non devo fare niente di che credo comunque vorrei dire la piega ha tenuto anche al sonno caldo di roma no non vado a cassino ovviamente il binario è due est quindi devo arrivare a fine del mondo ci vorrà del tempo io sono tornata morta di caldo una cosa esagerata ho fatto un sacco in realtà sono tornata già alle 11 diciamo si erano le 11 e mezza forse ho fatto un sacco di cose in casa perché appena sono entrata c'erano le formiche le maledette quando fa tanto caldo ma di solito questa cosa succede a maggio quest'anno ci ha graziato è successo agosto luglio metà luglio quasi agosto e praticamente dai muri sì perché arrivano dalle fessure dei muri escono le formiche quelle piccole piccole infamissime e avendo i cani non c'è posso manco spruzza niente perché dentro casa poi quelli annusano fanno quindi evito e niente sono hanno attaccato la ciotola del cane perché c'erano quattro crocchette dentro quindi sono arrivata era c'era una linea nera dei formiche piena tutta dentro la ciotola che schifo ho dovuto pulire tutto mi sono accorta che lavando per terra con l'essenza di bucato che hanno un profumo fortissimo per parecchio tempo non tornano perché l'altra volta erano uscite dal bagno e cioè dal muro del bagno avevo lavato con quelle non erano più tornate e adesso ho riprovato lì dove è e per adesso ormai sono passate tre ore non sono riuscite incrociamo le dita comunque mi profuma pure casa quindi va bene allora mi devo preparare il pranzo e sto per fare questi mi sto per fare il microonde vediamo che cosa succede ok poteva essere meglio però poteva pure essere peggio ve l'assicuro forse cotta in padella veniva meglio però dai è che è rimasta un po liquidina ma la pasta è cotta vabbè comunque il sapore non è malaccio è tornato mio marito stiamo cenando in giardino mangiamo cinese eccolo hanno cambiato le scatoline sempre lo stesso ristorante forse sono finita estate non so che hanno dovuto ricomprarle miei gnocchi di riso il mio cavolfiore mini walk in voltini un appetito amore abbiamo messo anche la tv in giardino io mi sono svegliata vestita sto uscendo credo di aver passato la notte più infernale della mia vita cioè tutto aperto e non c'era aria e in casa stamattina già ci sono 29 gradi cioè non è normale questa cosa e soprattutto svegliandomi ho visto le notizie di milano e della sicilia no 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 ok c'è qualcosa che non va comunque esco perché in casa va troppo caldo e sto a morire caldo quindi meglio andare alla fermata dell'autobus no in realtà fa caldo anche fuori ma c'è un cielo assurdo quindi probabilmente pioverà infatti ho preso l'ombrello però fa caldissimo quindi guardate vado a lavorare io e bubino super temerari con questo cielo siamo venuti a colle strada con il motorino che bravi prenderemo l'acqua ritorno probabile vabbè se piove adesso mentre siamo dentro potrebbe anche andare bene il problema se piove quando usciamo vabbè in realtà siamo venuti a fare shopping per bubino se trova qualcosa noi ci siamo fermati a mangiarci una cosa dentro al centro commerciale perché fuori in realtà il cielo è tutto nero quindi non potevamo andare via e però è andata via la luce ora cioè non tutta la luce però tipo quelle del centro commerciale siamo qui dentro quindi dovremmo essere al sicuro comunque mi avevate detto che da zara c'era cosa per far foto e le cose dei barbi qua a perugia non c'è sta niente né cosa per far foto né cose dei barbi niente ma niente manco la penna c'era proprio niente vabbè comunque il cielo sembra passato ci dà anche il sole lì giù non proprio ma di qua è sereno quindi possiamo tornarcene a casa luca ha fatto il shopping dopo facciamo video hall due cose vabbè facciamo mini hall ma più che altro dobbiamo aprire un regalo perché ci hanno mandato un regalo mamma che caldo eh ma quando arriviamo a casa apriamo un regalo noi siamo andati a con le strada per comprare dei pantaloncini a bobbino ma lui ora con il suo solito entusiasmo trascinante ci farà vedere che si è comprato invece dei pantaloncini giacchetto c'erano 38 gradi 38 gradi e lui ha comprato un giacchetto di jeans con la pelliccia la sua mente funziona come quella degli esseri umani bello però ti sta molto bene sta molto bene quindi non potevamo comprarlo certo ok giochetto di belliccia sì e poi che altro ti sei comprato quando dovevi comprarti dei pantaloncini dici poi dici anche questa è necessaria spaccaduto no è bella eh però c'erano i pantaloncini possiamo ricavarne dei pantaloncini se vuoi perché i pantaloncini non c'erano belli e quindi non li compro se non sono belli giusto anche se sei tu quello bello quindi se tu ti metti nei pantaloncini bella bella fighissima fighissima e quindi l'ho presa bravo brus grazie grazie a voi che mi avete scelto e del vostro entusiasmo soprattutto trascinante è caldo è caldo sì mi sto guardando questo che fanno su real time però ieri sera non l'ho visto quindi l'ho messo adesso poi vi faccio sapere che cosa ne penso l'idea sembra carina praticamente stesse squadre dei famosi dei ristrutturazioni delle case quelli che fanno i programmi vabbè chiaramente qui in italia non so famosi però per chi guarda sti programmi sì è una gara squadre dove devono ricostruire nel mondo reale la casa dei barbi possono guardarlo ma secondo voi solo che luca era qui sul divano con me si è alzato e mi ha detto ma che me stai a far vedere e se n'è andato non lo so se torna forse no io il programma con lei lo guardavo però era sposata con un altro cioè non so questo chi sia lei c'aveva un marito che comprava le case le ristrutturava però si erano lasciati si quella bionda loro non li conosco ah ok giocano due squadre per volta due squadre a settimana e gli danno una stanza a testa e un epoca dei barbi a testa bello perché te fanno vedere pure tutte le barbi dell'epoca carino per ora carino cioè alla fine sarà strepitoso perché io non abito nella casa di barbi che poi casa nostra è casa dei barbi praticamente cioè piccola come casa dei barbi comunque mentre sto a guarda barbi sto pure a leggere i commenti e quindi ciao fatima perché stavo leggendo un commento che c'era una ragazza che si chiamava fatima che ho chiesto mi saluti in un video eccomi ciao intanto guardo barbi c'è un pacco per noi tada Eliana ci ha mandato un regalo e adesso io e Luca lo apriamo grazie Elia ce l'ho lì da ieri solo che Luca non c'era e quindi ho aspettato che arrivasse Luca per aprirlo complimenti per il pacco Eliana che mi avevi detto che non eri capace di fare i pacchi invece non è vero non hai mai visto quelli fatti da Luca ma che bei capelli che si sta cambiando di nuovo il colore dei capelli aspettate eh apro eh che sennò faccio rumore ho aperto c'è una scatola di un paltone apriamo? apriamo? sei curioso? sono un giocco di cose qui dentro è una mystery box è una mystery box grazie pesco oh non metto appoggiato questo coso sulla capacità che ho il vestito nero oh cerchietto oh bello questo con i capelli nuovi ci sta bene carino senza etichetta magari ma va bene tutto per me che bello oh elastici come fai a sapere che in questa casa gli elastici non sono mai abbastanza perché il chihuahua me li ruba che carini guarda sono un gelato è vero elastici gelato oh le bat bomb la bat mobile oh sentiamo un profumo no? buone sicuramente sono come la grandine che sta cadendo nel mondo si qua c'è un bigliettino lo diciamo in segreto fammi leggere c'è il fronte retro vabbè luca legge il bigliettino poi faccio il giassunto a questo prima iniziala qua cari ragazzi ciao amore ho una rosa per te ma amore è di stoffa grazie che bello no aspetta non c'è mai avuto un elastico così sembra quella di gris guarda mi stimo il fiocco lascio leggere anch'io altri la grazie cioè tu non hai idea di quanto mi servono gli elastici perché a parte che fa caldissimo e poi il cane me li ruba me li nasconde li trovo ovunque penso che sotto al divano ce ne siano 30.000 grazie non ho letto ho letto bassa voce l'hai letto in testa vabbè è una cosa è una cosa è una cosa nostra comunque spugnettine rosa rigorosamente oh questa ce la facciamo stasera eh sono tre queste ce le facciamo stasera maschera in tessuto anti age è per te quello sei tu quello vecchio anti age è chiaramente per Luca scusa quello vecchio vabbè comunque nessuno mi dà l'età che ho eh però ce l'hai eh lo vedo però vuol dire già carina questa già si crema una sorta di anti age questa è per gli occhi a me piacciono tantissimo le maschere che si mettono negli occhi o quelle che si mettono qua sotto rassodante anti smog l'estratto di peonia questo è questo rumore sottofondo una maschera per i capelli ho ancora sti cosi esistono ovunque sono utilissimi li vedo ovunque oh vediamo se questa funziona rispetto a quella che ho provato io che non funzionava che io l'ho presa su timo credo che questo sia per te ho due cappellini eh no non lo mettere no bello questo poi i total black grazie c'è pure la cosa grazie qual è mio aspetta devo levare il cerchio ma non è che questo è per il bibbo ma forse quello rosa è tuo per il bibbarian oh però mi stanno bene i cappellini guarda sta bene non lo metti mai ma sta bene il cappellino ma fa caldo ok vabbè perché i cappellini così si mettono l'estate però fa caldo vabbè se giochi in porta ma io non gioco in porta vabbè no nero c'ho quello di barbie nero lo puoi prendere rossa lo tengo io ciao grazie ovviamente grazie Eliana ora mi leggo il bigliettino grazie veramente non dovevi chiaramente raga non ci mandate regali non c'è bisogno che ci mandate regali no no c'è bisogno ma aspettila dove magari se pensate un po' più a me e non tutto sempre a lei sei un cretino però grazie poi se vuoi tu ce li fai i video no perché hai fatto mezzo vlog mentre vai con Giacomino al concerto pretendi che eh qui viene premiato l'impegno impegnati vabbè grazie comunque veramente non dovete mandarci regali ripeto cioè grazie perché mi fa piacere ricevere regali a chi non farebbe piacere però non dovete mandarci regali non vi sentite in obbligo di mandarci regali ma smettila vabbè lei quello è il suo pensiero questo è il mio quindi il mio pensiero è continuate pure a mandare regali ragazzi tra l'altro quei capelli biondi sono tipo super bene col cappellino si si so bella eh molto molto grazie non so ancora chi ha vinto ma io tifo per la coppia lei e lui quello egyptian e non mi ricordo lui come si chiama però tifo per la coppia che ha fatto gli anni 90 e egypt e mike non non mi è piaciuta alla bella la cucina della prima coppia della coppia dei ragazzi ma non mi è piaciuto la sala da pranzo cioè il soggiorno invece cioè no no loro hanno fatto tutto bene quindi si tifo per loro ok non vi dirò chi ha vinto in realtà perché lo potete guardare in realtà su discovery in replica gratis cioè in streaming quindi se non l'avete visto lo volete vedere è carino carino la fastanoretta è carino e niente quindi ci vediamo alla prossima puntata per un commento allora possiamo inserire nel wiki vlog tanto fanno una puntata a settimana e lunedì sera però poi lo potete vedere quando vi pare tipo io non ce la farò mai a vederlo di lunedì sera carino carino sto curiosa di vedere la fine cioè la casa completa carino molto stamattina fa freddo cioè fa freddo cioè la temperatura che ci dovrebbe essere la mattina d'estate no vabbè cioè fa freschino potevo mettere diciamo un cosino sopra però sono uscita e ho detto voglio sentire freddo stanotte si è pure dormito cioè mi sembra un miracolo veramente è stata una sensazione bellissima comunque mo stanno a lavorare e ci vediamo dopo scusate vi ricordate questa camicia orrenda del video haul per resa per 60 centesimi e eh che ho detto madonna questa manco gliela faccio vedere a luca perché tanto non sa metterebbe mai aspettate dici adesso gliela ho fatta vedere io ho detto madonna guarda quanto è brutta sta camicia eh ho detto che uno sia stile ci vedi il bello anche nel brutto quindi non la butto quindi se ti metti non la metto nel secchio quello giallo se ti metti un jeans skinny nero va bene con un po' di alto una calza arancione con una canotta nera con la camicia larga aperta arancione è scendere quindi non la metto nel secchio giallo no quindi in pratica la tengo mio marito ha il potere di stupirmi sempre sempre mi lascia sempre senza parole oggi è il turno della camicia arancione orrenda va bene eccoci qua ho mangiato dei fagiolini e adesso in realtà sto cercando il coraggio di uscire perché Luca è andato a suonare e io devo andare a prendere un regalo perché la nostra amica Deborah ha avuto un bambino è nato Diego e nascono un sacco di bambini in sto periodo ho pieno di amiche che aspettano bambini o che hanno fatto nascere bambini va bene comunque eh devo andare a prendergli un pensierino perché l'ho chiamata visto che penso che la andiamo a trovare mh credo non lo so quando forse sabato, domenica boh comunque andiamo a trovarla quando torno a casa e gli volevo portare un pensierino e lei mi ha detto no non mi porta niente c'ho troppe cose e bla 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 però posso andare a mani qua di no eh quindi alla fine l'ho convinta a dirmi una cosa che gli serviva e adesso vado sì perché c'ha un compro giocattoli c'ha quattro giorni è inutile gli porto un giocattolo eh quindi adesso vado a cercare questa cosa che gli serviva solo che per fare questo devo uscire e io non ho voglia di uscire però devo farlo e lo farò vi porterò con me magari se mi fate compagnia nel tragitto penso che andrò da ticotà perché mi ha chiesto una cosa per il bagnetto quindi penso che ticotà sia la scelta migliore quindi adesso andiamo insieme da ticotà adesso mai nella vita proprio sono tipo le due più tardi andiamo insieme da ticotà devo andare da Marco che mi è arrivato un pacco così lo porto a casa e ci faccio un video e bello vestiti bei vestiti credo e adesso lo vado a prendere e e poi devo andare a prendere una cosa al penny market perché all'eurospin ho appena fatto la spesa avete visto il video venerdì ma l'eurospin non ce l'avevano quindi devo prendere una cosa al penny market sperando che al penny market ce l'abbiano perché non ho voglia di arrivare all'emisfero ovvio ah e ovviamente devo prendere anche un regalo a Maria Vittoria che è la sorellina grande di Diego perché sia mai che mi presenta a mani vote per Maria Vittoria poi quella a me parla più visto che sono la zia dorata non esiste che non mi parla più quindi ovviamente devo trovare pure qualcosa per Maria Vittoria però è facile per Maria Vittoria dai ce sta ora vado a fare un giretto a Dicotà eccola Chiara Temeraria si incammina verso Dicotà tornerò vittoriosa spero di trovarlo che cerco anche se no non torno vittoriosa torno senza regalo no sennò devo arrivare tipo all'emisfero forse boh non lo so è che domani Luca non lavora quindi contavo di non fare nulla domani e fare tutto oggi vediamo se ci riesco non è lontanissimo ci vorranno dieci minuti cinque minuti a piedi missione fallita cioè mezzi nel senso le cose le ho trovate però puntavo a trovare una cosa tipo un kit una cosa un po' più carina ma c'era solo di una marca che ho un po' di roba dentro cioè tipo quelle cose mi sa che era chicco invece ne ho presa una più naturale quindi vabbè ho presi i prodotti e poi ce li metto in una bustina tanto adesso passo da Marco e prendo una bustina va bene uguale allora ditelo che non esco cioè manco c'erano quello che mi serviva per la cena di domenica vabbè comprerò domenica matti o domani vabbè viene pure a piove eh sono venuti a lavar la macchina perché l'abbiamo ripresa dal meccanico ma è marrone di solito è argentata quindi la passiamo un attimo sotto i rulli ma c'è la fila perché ha piovuto terra qua da noi e quindi ci sono venuti a lavar la macchina però è tornata è tornata sana e salva bella de casa poi andiamo a cena la bimba insaponata bella de casa vai partono i rulli siamo arrivati al paesello ecco basta è qui la festa è in campo qui così in mezzo al nulla io mi sono riuscito così perché adesso sto qui e farò lo spaventapasso bubino spaventapasso e un po' sì andiamo c'è un po' da camminare tra il parcheggio e mi avrebbe detto un'altra cosa però non la posso dire eh non ce la di allora tra il parcheggio e la festa c'è un po' da camminare in salita e ci sono i grilli che mi saltano sui piedi non la sto vivendo benissimo com'è Bubi? bello sta guardando la partita dei ragazzini piccolini che fanno di quel torneo guardate questo è il paese de Luca guardate e lui era uno di quei bambini che giocava sulla terra è il paese più bello del mondo bello però dai no aspettiamo tra un po' mangiamo stiamo cenando questa è la torta il problema è che Luca deve mangiare così perché è pieno di di moscerini volanti ma pieno arrivano addosso e quindi Luca gli ho chiuso il piatto e sta mangiando sotto al tovagliolo è pieno e ne sono un milione grande mamma mia non te lo ricordi niente c'è praticamente sono state due ore che ogni persona che passava Luca la conosceva vabbè e quindi poi si raccontavano tutte le cose da quando era piccolo è una cosa bella è bellissimo solo che in tutto questo credo di aver mangiato un esercito di formiche volanti questo è meno bello ci hai regalato anche uno sbadiglio va bene basta adesso andiamo a casa dai cagnolini e quindi da questo wiki vlog è tutto e noi ci vediamo al prossimo video ciao